Buongiorno Simone Rutella di Fototrappolaggio Liguria, la meraviglia degli animali selvatici con le immagini catturate dalle vostre videocamere. Buongiorno Simone. Ciao, buongiorno. Ci racconti intanto che cos'è il fototrappolaggio e poi andiamo a scoprire insieme in che modo lavorate. Ok, allora sì, il fototrappolaggio è questa pratica in cui si vanno a piazzare le fototrappole all'interno del bosco per andare a vedere i comportamenti o comunque quali animali sono presenti nei nostri boschi. Quindi questa fotocamera è dotata di un sensore di movimento il quale al passaggio di un animale inizia a scattare una foto oppure a registrare un video in base a come appunto viene impostata. Noi tendenzialmente mettiamo modalità video in quanto ci piace vedere proprio tutti questi comportamenti che gli animali hanno all'interno del bosco, anche perché il fototrappolaggio è bello perché si possono vedere gli animali in un momento in cui l'uomo non è presente all'interno del bosco. Quindi tutti quei comportamenti di questi animali vengono preservati, non essendoci l'uomo a disturbarli, si possono andare poi anche a studiare quelli che sono i loro comportamenti, anche magari annuali, in base all'anno una determinata specie può comportarsi in una determinata maniera, ad esempio il Dino a ottobre al periodo degli accoppiamenti, quindi mettendo anche la fototrappola si possono vedere questi periodi, queste cose, senza magari andare a comportare un disturbo alla fauna in un momento così delicato. Simone tu non lavori da solo ma siete appunto in due e insieme avete posizionato queste fototrappole un po' ovunque negli appennini. Dove sono le vostre? Esatto, allora diciamo che noi abbiamo circa 25 fototrappole piazzate in Liguria, prevalentemente in Val Trebbia, qualcosa in Alta Val Bisagno e poi abbiamo intenzione di mettere qualche fototrappola anche in Val Brevenna. Tendenzialmente però la zona più mappata da noi è la Val Trebbia. Quali sono gli animali? Intanto stiamo vedendo, lo spieghiamo, questa è una selezione, una piccola selezione delle vostre immagini che poi si trovano per esempio sulla vostra pagina Facebook e online si possono trovare. Quali sono gli animali le cui immagini voi catturate maggiormente? Oh guarda, riprendiamo tantissime specie, sono veramente tante, abbiamo video di caprioli, tassi, faine, istrici, lupi, cinghiali. La Liguria ha una biodiversità molto elevata e quindi sì, praticamente qualsiasi animale sia in un contesto anche magari periurbano perché abbiamo delle fototrappole anche diciamo magari al di sopra dei boschi della città e abbiamo constatato che anche nei boschi al di sopra della città sono presenti praticamente tutte le specie che sono presenti anche nell'entroterra e quindi questo è un dato molto interessante perché si vede proprio come il ritorno, si può dire, dei boschi dopo che c'è stato il passaggio dell'uomo dalle campagne alle città ha portato quindi poi a un'esplosione del mondo naturale e quindi il ritorno di questi animali. C'è molta preoccupazione Simone, insomma se ne parla nella cronaca, nella presenza di animali selvatici molto vicini all'abitato, per esempio dei lupi, ecco questa è forse la specie più riconosciuta negli ultimi mesi, ma c'è da preoccuparsi rispetto alla tua esperienza e anche agli studi che stai facendo? Ma allora diciamo che ha successo, secondo me assolutamente no, nel senso che tutti questi avvistamenti che vengono fatti magari in alcuni paesi dell'entroterra o magari anche più vicino alla città sono tendenzialmente attribuibili a dei lupi che sono nella maggior parte dei casi in dispersione, cioè sono dei giovani lupi che a un certo punto si staccano dal nucleo familiare originario per andare a cercare una zona libera per creare un branco nuovo. Ovviamente possono passare ed essere semplicemente di passaggio all'interno di paesi o comunque di centri abitati. In quel caso non c'è assolutamente nessun tipo di problema perché il lupo è un animale che ha paura dell'uomo, forse è uno degli animali che ha più paura dell'uomo rispetto a tutti gli altri e quindi finché non è confidente non c'è nessun problema. Un lupo confidente bisogna specificare che è un lupo che si avvicina all'uomo in quanto magari qualcuno gli ha dato da mangiare. Quindi le cose importanti da fare sono non dare da mangiare agli animali selvatici, in modo specifico al lupo, altrimenti finisce come i cinghiali che ci sono nel bisagno che oramai sono animali che hanno un comportamento totalmente differente da quelli che magari vado a vedere nei boschi, perché nei boschi un cinghiale scappa, in città invece magari ti segue perché hai la borsa della spesa. Il lupo tendenzialmente in questo caso confidenti in tutte le notizie che escono, io non ne ho constatati, sono sicuramente lupi in dispersione e bisogna adottare alcune semplici regole per coabitare in modo pacifico, nel senso che magari anche lì il cane, tenerlo al guinzaglio durante le passeggiate e anche altri animali domestici, cercare di proteggerli con delle misure indirette, quindi protezioni come ad esempio anche animali di allevamento, cani da guardiania, filo elettrificato, poi va in base alla zona, bisogna comportarsi in maniera differente, poi non entro nel merito perché non sono un tecnico, però la prevenzione è l'arma migliore, però ecco paura assolutamente no. Simone in conclusione ti faccio questa domanda, ovvero voi raccogliete tantissimi materiali, intanto stiamo vedendo questa selezione di video e poi che cosa ne fate? Di solito questi materiali vengono usati anche per studi scientifici. Sì certo assolutamente, io e Gianfranco stiamo raccogliendo veramente tantissimi dati, anche perché vabbè lui è iniziato ancora prima di me, è dieci anni che fa fototrapolaggio, è iniziato a fine 2019 e quindi tra introterra e città abbiamo veramente tanti video, io nello specifico per quanto riguardano i video presenti al di sopra della città sto scrivendo la tesi universitaria, quindi sto facendo uno studio sulle specie presenti nei boschi limitrofi alla città, che reputo una cosa molto interessante. Allora io ringrazio, saluto Simone Rutella di Fototrapolaggio Liguria, seguiteci, seguite lì sui social perché insomma quasi ogni settimana c'è un video nuovo da andare a curiosare, proprio lì vi ho trovato, grazie Simone. Grazie, grazie mille dell'invito, ciao.